Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo Amici di Radio Bruno, siamo sempre qui a Sanremo e ci è venuto a trovare Mirko Il Cane Ciao a tutti, ciao Ciao, benvenuto Grazie, ben trovati Prima domanda, come stai? Perché proprio ieri sera ti sei esibito sul palco dell'Ariston per la prima volta Dimmi un po' le tue emozioni, quello che hai provato prima e quello che hai provato dopo Una vasta gamma di emozioni da meno infinito a più infinito, insomma è un momento di riassunto della vita quasi Lì dietro ti viene in mente tutto, poi salire su quel palco è quasi come non salirci, non te lo so spiegare Però sembra quasi che tu non sia lì, è una cosa che dici dove sto, ma veramente sto sul palco dell'Ariston Un'altra dimensione quasi Sì esattamente, ma io lo vedo sempre in televisione, bellissimo, bellissimo E dopo la tua esibizione, che cosa hai fatto? Sei rimasto lì dietro alle quinte, sei andato via, hai continuato a guardare il festival? Sono rimasto un po' lì, c'è qualche intervista da fare subito dopo, poi sono andato a mangiare perché non mangiavo dalla cena del giorno prima Quindi c'avevo vagamente fame e ho continuato a seguire il festival dalla tv del ristorante Io ero all'Ariston, ho avuto la possibilità insomma di sentirti, ascoltarti dal vivo ed ero in mezzo quindi al pubblico E io ho sentito gli applausi intensi del pubblico per la tua canzone, per la tua interpretazione, devo farti davvero i complimenti Grazie, grazie mille Li hai sentiti questi applausi? Li ho sentiti, li ho sentiti, è stato bello vedere che la canzone, il suo messaggio, che è un messaggio che nel momento storico in cui siamo poteva essere frainteso Non è stato frainteso ma bensì è arrivato per quello che è Un messaggio molto forte, il brano molto intenso ed è la storia di questo bambino Sì, è la storia del piccolo Mario che poi è una persona che esiste veramente, non è più piccolo, non si chiama Mario Però è una persona che ha voluto raccontarmi la sua esperienza, il suo viaggio, di sua spontanea volontà E tanto forte è stato l'effetto su di me che è la prima cosa che ho dovuto fare, prendere un foglietto È stato un racconto molto dettagliato, ho tolto qualche dettaglio per rispetto nei suoi confronti e l'ho fatto un po' mio con la fantasia E invece questo festival, che cosa pensi che ti lascerà? Mi lascerà, non lo so, sicuramente un ricordo unico Però spero sicuramente che porti tante persone ad affezionarsi a quello che faccio Non solo a questa canzone, non solo a Stiamo tutti bene Ho fatto un disco, ne sta uscendo un altro Quindi spero proprio che le persone abbiano la curiosità di sentire anche altro E invece tu hai sempre guardato il festival di Sanremo Il primo concerto però che hai visto con tua mamma, se non sbaglio, è quello dei Poo E allora alcuni di loro sono sul palco dell'Ariston con te Sono anche dietro al palco dell'Ariston, io gli sono corso dietro nei corridoi Assolutamente sì, non potevo, anche perché dovevo farlo e mandarlo subito a mamma Con grande orgoglio mi mandava emoticon Scherzi a parte, il primo concerto che ho visto è stato il concerto dei Poo Io ritengo che alcune canzoni dei Poo siano di un'altezza incredibile Che se ne dica, poi diventa tutto un gioco Però insomma io sono convinto che abbiano un repertorio bellissimo E sono contento di averli incontrati e anzi di condividere con loro lo stesso palco Questa è una cosa che mi rende molto orgoglioso Ma hai chiesto qualche consiglio oppure loro ti hanno rassicurato in qualche modo o no? Beh in realtà il tempo è molto poco perché ci si incontra per sbaglio tra una corsa e l'altra nei corridoi Quindi no, solo qualche pacca sulla spalla e qualche sono un vostro fan eccetera eccetera Invece che atmosfera si respira dietro le quinte tra voi giovani? Tra noi giovani c'è un'atmosfera tranquilla Per quanto riguarda me io non sono tipo da sentire troppo la competizione Quindi per me sono tutti amici, c'è chi ho conosciuto meglio, chi ho conosciuto un po' meno Però ecco, c'è tensione ma non è una tensione negativa È solo perché siamo nuovi a queste dinamiche Stiamo per salire in un mondo, su un palco difficile e magico Quindi siamo tutti un po' sulle nostre Però c'è rispetto e amicizia Ci pensi un po' alla serata finale? Cosa ti aspetti? Ci penso, ci penso Mi aspetto di svenire sul palco O di scoppiare a piangere No, no, mi aspetto di riuscire al meglio A fare da tramite tra quel Mario della canzone E le persone che ascoltano il brano Io ti ringrazio e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo Ti chiedo di salutare insomma tutti gli amici di Radio Bruno che ti seguono Assolutamente Allora, da Mirko il cane Un saluto a tutti gli amici di Radio Bruno Ciao Radio Bruno In diretta dal Festival di Sanremo In collaborazione con Grissin Bon Modena Giochi Alessara Gesthouse Mondo Convenienza Rosanna Alpi Concessionaria Renaud Franciosi Cornacchini ODS Giocattoli E B per Banca Concessionaria Renaud In E B per Banca in